Cattone esprime le sue preoccupazioni in merito alle ambizioni di Cesare. Cesare è molto pericoloso qui a Paratus Est perché, afferma Cattone, è pronto, Paratus Est ad omnia faccenda, è pronto a fare tutto, cioè a fare di tutto, a mettere in campo ogni strategia possibile pur di ottenere il consolato. Quotendit, dove è diretto letteralmente, cioè dove intende arrivare, qual è il suo obiettivo. Soffermiamoci sull'espressione Paratus Est ad omnia faccenda. Faccenda è il gerundivo di faccio facere concordato con omnia neutro plurale in accusativo dell'aggettivo omnis omne. Anche qui il gerundivo è usato con valore di attributo riferito ad omnia che è preceduto dalla preposizione ad. Ad più accusativo è come sappiamo una delle modalità con cui il latino esprime il complemento di fine. Dunque ad omnia faccenda significa per fare tutte le cose, a fare tutte le cose. Cattone avrebbe potuto dire la stessa cosa usando ad più gerundio seguito dal nome in accusativo? avrebbe cioè potuto dire Paratus Est ad omnia facendum? No, in questi casi, cioè con ad più accusativo con valore finale, si usa solo il gerundivo.